E dopo questo congresso agli Stati Uniti riguardo alle rivelazioni UFO fatte da questi militari sotto giuramento, Mauro Biglino non può evitare di dire la sua come una donnina tutta eccitata. Mauro Biglino fa notare infatti che sotto giuramento non si può scherzare. Queste persone rischiano la carriera, la vita e la prigione. Ma noi che dopo la pandemia sappiamo fin dove si possono spingere anche le teorità politiche e mediche, non dobbiamo assolutamente farci fregare. Perché molti di noi che non si sono fatti ingannare dal cavaliere del transumanesimo della scienza medica si faranno invece ingannare da quello dell'alieno legato alla nuova spiritualità. A proposito di femminuccia citata, si può capire dallo Stelium nella Vergine che Mauro Biglino è una vergine doc. Lo dimostra la sua puntigliosità pedante e il suo mostrarsi sempre circondato da libri. Particolare il suo nodo sul grado anaretico dei pesci e il suo giove sul grado zero dei pesci a indicare il suo destino che lo spinge verso un grandioso interesse verso la spiritualità e ad apportare un enorme contributo alla nuova religione acquariano. Tuttavia con Chirono in Sagittario, Saturno, Mercurio e Luna separati dal Sole saranno altre a lucrare sulle sue menzogne.